Signori, due poltrone, una per un angelo e una per un diavolo. Partiamo dal bene. È un personaggio che è nato nella provincia di Reggio Emilia, una provincia, una regione, l'Emilia Romagna, molto generosa. Adesso vive lassù, sull'appennino tosco emiliano, con l'anziana mamma novantenne. È stato un leader del punk rock italiano. Nel 1982 fondò i CCCP. Sto parlando di un uomo che è arrivato alla conversione, forse tardi, ma comunque c'è arrivato. Signori, Giovanni Lindo Ferretti. Avanti! Giovanni Lindo Ferretti. Cammina sereno, magro, ascetico. Grazie Lindo, si accomodi. Il diavolo che sta per entrare, il diavolo che c'è in noi. Facciamolo entrare e vediamo l'incontro vero tra il bene e il male. Signori, Richard Benson. Entri il diavolo! Richard Benson è un chitarrista di origine britannica, accompagnato dai toreri. È un uomo che viene dal web. Attenzione, non fanno cadere. Sembra l'uomo gatto di Papi. Buonasera. Loredana per te, c'è. Anche. Buonasera, guarda, mi sono messo questo nel culo. Benissimo, ecco, come potete vedere... Comincio a mettermi i bastoni nel culo. Cominciamo bene, no? È diventato Renato Zero di colpo. Allora, dobbiamo andare quasi in pubblicità e quindi vorrei soltanto presentare Richard Benson al pubblico che non ama il web, che non ama il Progressive, perché lui è stato leader del Progressive italiano negli anni 70, ha fatto diversi dischi, non sappiamo quanti ne ha venduti però. I dischi ne ha fatti? No, ma faccio tante trasmissioni televisive, lo sai, no? Su internet ci sono 530.000 pagine, se sommi tutte le cose su internet su di me. No, lo so, dico, ma di dischi ne ha venduti, Benson? All'epoca sì. Quelli grandi gruppi del rovescio della medaglia, dei grandi gruppi, l'era d'acquario... Ecco, lei ha mai sentito parlare dei CCCP o dei CSI? Certo che li conosco, certo che li conosco e non mi sta bene, non mi sta bene, perché io sono rimasto sempre fedele. Anzi, sono andato avanti, pure quello dei Korn, Bruce Welch, ha abbandonato un gruppo metal estremo e si è fatto benedire nelle acque del Gange, prima di diventare un monaco bizantino. Pure Yuri Kamisaska, pure Claudio Rocchi, pure Paolo Tofani, ex Califfi, poi passato con la prima formazione degli area. Che hanno risolto? Dove cazzo sono andati a finire? Sui monti degli Alpini? Bene, credo... Sono incazzato come una bestia! Si calda... Sono incazzato come una bestia! Chiamatemi Lingo! Chiamatemi Lingo! È un indemoniato! Ci vediamo tra un istante. Come vi dicevo, si sa come comincia, non si sa come finisce. Là! I nostri due ospiti, da una parte... Eh? Grazie! Prego! Dicevo, da una parte abbiamo il male, il signor Benson, chitarrista di origini britanniche, ma dall'accento romano, e dall'altra parte il bene, da Reggio Emilia abbiamo l'amico Ferretti. Negli anni 80 Ferretti, lei diceva che alla plastica preferiva l'acciaio. Oggi? Beh, oggi preferisco il legno, ma comunque continuo a preferire l'acciaio alla plastica. Sempre acciaio, il metallo duro che anche ha suonato, credo, Benson, chissà quante volte. Beh, nei miei concerti sono proprio estremi, per cui l'avrai visti, degli spezzoni. Io ho visto degli spezzoni, lei fa delle cose molto estreme. Vorrei ancora chiedere se lei preferisce l'effimoro o il duraturo. Poi lo chiedo anche a lei. Si, certo. Si prepari la risposta. Beh, da questo punto di vista siamo molto simili. Io preferisco il duraturo. Il duraturo. E lui chissà quanti concerti ha fatto guadagnando una barca di soldi, neanche uno. No, io faccio 12.000, 15.000 persone. Dove li fa? Ma dappertutto in tutto il mondo. Ma facendo cosa? Le pizze? Cosa fa? Come che faccio? Faccio degli spettacoli dove suono, dove racconto le mie storie, dove ci sono le ragazze trasgressive, dove facciamo delle scene, ma anche teatrali. Vedi, tu prima hai detto, l'effimero o non l'effimero. Il mio non è l'effimero. Il mio vuol dire tenere a bada 12.000 bestie scatenate, che sono i ragazzi di oggi, che vogliono divertirsi. Capito? Molto chiaro. 12.000. Lei viene da molto lontano, come quelle di Rifondazione. Abbiamo le immagini dei suoi inizi, quando lei era ancora... Eh? Mi fai ridere? Eh, pensa te. Allora, scusa. Allora, abbiamo le immagini degli inizi di Benson, che non ha nulla a che fare con George Benson, che pure lui è un chitarrista nero. Lei è il Benson... Lei è un Benson bianco, no? Sì, sono un pisello nero, però. Bene, se lo tenga. Vediamo gli inizi di un giovanissimo Benson in una trasmissione cult della televisione italiana, la Rite Bu. Prego, dalla regia. Stiamo dalle otto e mezzo in onda e la voce, come sentite, se ne scende piano piano. La consuleta e definitiva look parade. La look parade, per tutti coloro che ci vedono per la prima volta, e la parata, praticamente, dei tipi di moda. I look più gestionati della settimana. Quali sono i look più disastrosi e terribili della nostra trasmissione? Partiamo subito con Richard Benzo e il look metallaro. Olè, Richard Benzo, fantastico. Guardatelo, ragazzi, questo è il peggior look che abbiamo presentato. Richard Benzo, metallissimo. Grazie. Prego. Grazie. Lei è partito così... No, non sono partito... Scusa, non voglio annoiare il pubblico, io voglio che stasera ci sia un audience allucinante. Allucinante. E se comincio a raccontare la storia della mia vita, non voglio abbassare l'audience. Ma erano anni, io venivo dal rovescio, io venivo dal progressive, eccetera. Però quel look, se tu ci fai caso, viene prima di David Bowie, viene prima di Billy Idol, viene prima di tanti altri. Ero molto più giovane, ero molto più bello. Guardami stasera che sono passati più di 30 anni, il look è sempre l'evoluzione di quella base. Capito? Mentre Ferretti, che io devo dire mi sta simpatico come persona, e si può cambiare, perché nessuno deve avere dei paraocchi o dei limiti. Dipende, cioè, la vita è uno stato mentale. Anzi, vorrei dire a Ferretti una cosa, ti vorrei regalare una perla di pioggia da un paese dove non piove mai. Bene, direi di andare avanti, sono tanti gli interventi. Tu sì, signor Chiamberti. Sì, prego. Se non vuole i paraocchi, basta che li toglie, è un attimo. Lui? Sì, perché... Cosa? Se le dà fastidio i paraocchi, basta che si rileva, che ci ha visto che c'ha... Ma che c'ho ai paraocchi? Io c'ho gli occhi... No, nel senso delle... Io c'ho gli occhi demoniaci sotto, hai capito Diego? Eh, ma io li vedrei volentieri, questi occhi demoniaci. Li faccio vedere? Bellissimo! Molto bello, ovviamente è supportato da delle lenti, credo, no? Supportato da lenti? Beh, Verdone mi ha fatto il contratto in troppo forte, ha cercato i miei occhiali dove io non c'ero e porta... ha cercato i miei occhiali che ha visto in televisione e poi io ho fatto il film con Verdone. Poi lo vedremo. All'inizio è maledetto il giorno che ti ho incontrato, lo sai, no? Sì, so tutto di lei. Io ho collaborato con Flavio Bucci, con tanti altri attori. Andiamo avanti, andiamo avanti. Grazie Diego! Prego, chiaro. Andiamo avanti. Mi piace Diego. Torniamo a noi e, signore, non so se lei è così interessato al mondo della politica oppure punta... E non c'è la politica, è tutto un casino. Capito? Ecco, comunque io a Ferretti, dato che siamo qua, vorrei dedicare delle parole. Ancora? No, quattro righe sono, che secondo me lo inglobano nella maniera più giusta. Sì, vada. No, non sono uno del branco. Cancellatemi dalle vostre agende. Figli dei figli, ma di quali fiori? Diluite le vostre droghe! L'applauso viene fatto anche per circostanza. Comunque, le sue sono parole forti. Sono parole... Sono parole... Sono parole forti. E allora, invece io credo che quando si parla di angeli e diavoli, qui ne abbiamo due, intanto vediamo all'occhio che l'angelo tira la cinghia, mentre invece il diavolo ha i buoni... Mensa, diciamo, no? Perché lei è un pochino più robusto. Ma la cosa più interessante del diavolo è che spesso dice le bugie. Lei è riconosciuto per essere il più grande pallista del pianeta. Vorrei ricordare almeno tre bugie che lei adesso deve o confermare o smentire. Lei ha dichiarato di aver fatto un concerto, uno spettacolo, un mega show con Pamela Anderson. Non abbiamo una foto, un'immagine, un ritaglio di giornale. Quando, come, perché? Rapidamente. Rapidamente? Quando? Tre anni fa io fui contattato da il produttore che fece il padrino e da un gruppo televisivo e Pamela Anderson venne ospite una volta. Non è che lei, tutte le puntate, stava presente. Sì, ma avete lavorato insieme? Questa è la domanda. Lei ha detto che ha fatto uno spettacolo. No, lei è venuta ospite e abbiamo fatto una cosa insieme. Ma dove? A Teletuscolo? Dove siete stati? A Los Angeles. Los Angeles? Negli studi Universal di Hollywood che adesso sono bruciati. Non abbiamo un'immagine. C'è Peter Barth che può testimoniare. Non c'è un'immagine. Non ci sarà un'immagine perché lei... È bruciato tutto, sono bruciate anche le immagini. No, non sono bruciate le immagini. Lei, per avere le sue immagini, vuole un tot di soldi. Che noi non gli daremo mai. Che io certo non gli do. Benissimo. Se lei è d'accordo nel farsi vedere in televisione, ok. E abbiamo venuto ospite una volta chiedendo la cifra astronomica agli Universal Studios. Dica la cifra, dica la cifra. Non me la ricordo, è astronomica e c'è Peter Barth produttore del Padrino e altri film con la Miramax, la Lorimar, la MGM, l'Atlantic, la Focus per l'Atlantic e tutte i consociate hanno realizzato questo special hollywoodiano dove in un spezzone c'era la Pamela. Si dovrebbe spegnere da qualche parte. Spegnimi! Seconda valla! Io ti dico spegnimi! Non voglio! Spegnimi! Non voglio! Vada retro, satana! La seconda valla che lei è stato il chitarrista di Grace Jones. Quando? Dove? Perché? Rapido! Rapido! Grace Jones mi vide al teatro di Ostia quando stava facendo... No, no, venne ad Ostia a fare il suo spettacolo al tempo di Mulan Rouge, al tempo di La Via Rose, mi vide suonare, io feci da spalla Grace Jones, Grace Jones mi offrì da farle da chitarista d'America. Non abbiamo un'immagine, non abbiamo una foto, non abbiamo niente! È scritto sul messaggero, sul Paese Sera e ce l'ho tutti conservati! Non li abbiamo trovati! Tu non l'hai trovati! La prossima volta li porti, chiaro? Certo, io ho dieci libroni grossi così! Ma la palla più grossa la voglio tenere in fondo! La palla più grossa è quella che a Vancouver, già Vancouver... Sì, ma di Marley Manson! E poi a New York... È già una palla, solo la parola Vancouver... E poi è già una palla lì... Che a Vancouver, mentre lui teneva un concerto di fronte centinaia di migliaia di persone... No, non c'erano centinaia di migliaia di persone... Una persona... No, c'era un gruppo di gente, seguiva sto ragazzino... C'era un ragazzino col padre, vecchio... Tipo Geppetto! E lì l'hanno mandato a Vancouver! No, sai chi era... No, non l'hanno mandato a Vancouver! L'hanno mandato nel Foucault! Sai chi era il bambino? Era Marilyn Manson, che continuava a seguire con il babbo anziano con la gobba i concerti di quest'uomo! Tu devi capire! Pallista! Tu devi capire! Sei un pallista! Non sono un pallista! Sai perché? Perché se tu vuoi ricercare le mie vecchie foto di molti, molti più anni, di 30 anni prima che Marlin Manson adottò quel trucco, quel trucco esattamente lo stesso che adottavo io 30 anni prima del suo avvento! Benissimo! Vorrei sentire la signora Maionchi! Andate a cercare delle enceglomerie! Fermi, fermi! A me non me ne fotte un cazzo se non si crede! Grazie per le belle parole! Non ci guadagno niente io! Grazie per le belle parole! Sono bellissime! Chiediamo alla signora Maionchi che cosa pensa del talento del signor Benzo! Ma io di solito devo dargli giudizio, c'ho un po' paura a dare un giudizio a lui perché se gli dico che non è un gran bel prodottino, questo qua con quel bastone lì, lì fuori mi dà una bastonata! E quindi è il migliore di tutti! Mamma mia, ma non lo so, ma qua dietro non lo vedo! Guardi, le voglio dare un aiutino, abbiamo le immagini di un concerto del signor Benzo! Avvalliamocene! Vediamo subito come tratta il pubblico, prego dalla regia! Brutto stronzo, fatti avanti che hai tirato sta roba, dai, vieni qua, vieni qua! Ti voglio far vedere le mie spalle e le mie braccia come sono forti! Ti giuro che strozzo, capito? Perché se tu mi devi rovinare lo spettacolo dove sto suonando bene, una volta ogni tanto... Li mortacci vostri! Andate tutti a fanculo! Andate tutti a fanculo! Uppino! Lei tratta il pubblico con poco rispetto, ma c'è anche da dire che il pubblico tratta con pochissimo rispetto il signore. C'era anche una signora che lo asciugava, hai visto che... Se la porta sempre dietro, perché quello che succede nei concerti del signore, poi lo vedremo più avanti... Ah, perché gli arriva roba d'osso e loro lo asciugano. Gatti vivi e poi spazzoloni del cesso. Una volta hanno beccato anche un merluzzo che entrava con tutta la scatola, proprio dentro. È vero! Perché c'è così tanta cattiveria nel mondo? Non è cattiveria, loro si divertono così, io li faccio divertire e li faccio scatenare. Capito? Mi prendo tutta la roba addosso, però è un gioco, perché alla fine vengono tutti ad abbracciarmi. Lo sai, è un gioco, è un gioco infernale, il nostro inferno personale abbiamo creato. Perfetto, siamo tutti figli di Dio, questa è una frase che lei ripete spesso. Quindi, quest'uomo con i difetti, col suo temperamento anche un po' così, fumantino, è un figlio di Dio? Beh, mi ha gratificato persino del termine persona, non è roba da poco, voglio dire. Lui è una persona, è costruito, è fatto a immagine e somiglianza di Dio, esattamente come lei, come me. Poi, come dire, le differenze ci sono, ma fanno parte del libero arbitrio. Libero arbitrio. Siamo tutti creature di Dio, amico mio. Devo dire che la fantasia di Dio è vasta. Forse aveva bevuto. Va bene, comunque. Era fine settimana, ha lavorato tutta la settimana a Sciambola. Sai una cosa, Piero? Ti racconto questa piccola aneddota. Applaudono. Due pesciolini rossi dicono, ci deve essere un Dio che ci cambia l'acqua tutti i giorni. Bellissimo. Non l'abbiamo capito, ma la metafora è forte. Invece io vorrei tornare ancora con Ferretti, perché abbiamo scherzato, ma non abbiamo ancora sviluppato quello che invece è il discorso che ci sta più a cuore. Perché essere metallari della prima ora e poi piano piano trasformarsi o trovare nuove forme di luce, di vitalità, di obiettivi, non è una cosa che succede a tutti. E' un peggio di metallaro. Lui è stato un punk. Lui è stato un punk. Per cui è ancora più violento. Ancora più violento. Le baglie in bocca, i cosi, no? Gli spilloni, eccetera. Hai capito? Peggio del metallo è stato lui. Ho capito! Ho capito pure io! Ecco, quindi volevo sapere se questo viaggio verso il Signore passa attraverso la Mongolia. Perché lei ha fatto un lungo viaggio in Mongolia, quindi è partito da Reggio Emilia, è arrivato in Mongolia ed è tornato diverso. Come ne dicevo, io non sono un angelo Chiambretti, tra l'altro io sono un buon gustaio. Io mi faccio una volta alla settimana una padellata di patate fritte nel lardo con la salciccia, bevo il vino. Lui mangia un cioccolatino all'anno, guardi com'è. È proprio un disastro metabolico. Lei è un disastro metabolico, ma rimanga zitto perché dobbiamo andare in pubblicità.